Sulla prescrizione Italia Viva ha detto che Renzi sia per il non arrivoca ai Benettoni le concessioni autostradali, che sia per non bloccare la prescrizione, lo sappiamo perfettamente, ma siccome c'è il Movimento 5 Stelle, vedrete che con un po' di fatica, ci metteremo un po' di fatica, rimarremo qualche ora in più negli uffici a trattare con Renzi, lo obbligheremo, lo inconvinceremo, l'abbiamo convinto a tagliare i parlamentari, l'abbiamo convinto a approvare norme molto importanti che non avrebbe mai approvato, lui difende i lobbisti, noi difendiamo i cittadini, ma stavolta non ci sarà più uno stupratore o un criminale che non andrà in galera perché è prescritto il reato. In bocca al lupo! Viva il lupo!